Oggi andrò a creare un pad Avevo già fatto un video Prima di questo Solo che è lungo 6 minuti Andrò a spiegare brevemente i concetti Per creare un pad Un semplicissimo pad Quindi Inizializziamo il preset Adesso andiamo a mettere 8 voci Togliamo re, trig L'ottavo lo mettiamo a 1 Aumentiamo il detune Meno della metà Ok Qua glielo copiamo E glielo incolliamo qui Andiamo a modificare l'ottava Il suono diventa un po' più pieno Anche qui Li andiamo a mettere Mettiamo sempre 0 Così rinforza questo E qua li andiamo a rimettere Mettiamo meno 1 Ok, adesso è bello pieno Però Stoppava di botto Ed abbiamo messo un relays Adesso gli aumentiamo il decay Che non cambia niente E gli andiamo a mettere un riverbero Quindi Aumentiamo il dump Togliamo il pre-delay Sides lo aumentiamo un attimo Esce una cosa simile Aumentiamo ancora un po' Di più il relays Ok Aumentiamo l'attack In modo che venga bello sfumato Come sentite Il pad Zoppica Quindi io eviterei questo E andrei a mettere 16 Di polifonia Andiamo a mettere un bel filtro Su tutti e due Si fa un po' più cupo il suono Opaco Mi vado a creare un effettino Al pad Quindi Un bel cutoff a B Il suono zoppica di nuovo E aumento il sustain E il relays Adesso gli andiamo a fare un effettino Con un LFO Quindi Sempre qua Cutoff a B Gli aumentiamo un attimo E gli mettiamo il volume Adesso è un ottavo Perché c'è sync Quindi sincronizza col tempo Un sedicesimo Quarto Adesso se io glielo volessi fare al contrario Andrei A diminuire ovviamente questo E aumentare questo Equalizziamo il tutto O semplicemente Senza effetti Bello lieve Grazie 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 Grazie.